No, ma è andato bene, mi sono fatto così, mi ha abbiato l'orecchio, un pezzo di ferro che era enorme, era le 6 e mezza la mattina, entra un signore che dice che è francese, non lo so, si ha buttato questi in aria, si ha detto che stai facendo, boom, mi ha dato un pezzo di ferro così grande qua, mi sono fatto così, mi ha abbiato l'orecchio, c'è il resto, poi è arrivato il mio figlio, gli stavano braccato, è arrivata la polizia, è ammanettata, portatevi, ma è libera adesso. Racconta la sua bruttissima esperienza, il signor Lucio, titolare dell'omonimo storico bar vicino alla stazione di Pescara, l'uomo di 85 anni lunedì scorso è stato ferito, come racconta da un cittadino francese, è stato confusionale. Purtroppo stiamo qua da 51 anni che sto qua io, ma fino all'80 Pescara era un giardino di fiori e di gente, ma è diventato pieno di stranieri, vanno cercando le mosse, non vi dico. Secondo lei l'esercito risolverebbe qualcosa? Per me sì, ma non in divisi, in borghese devono andare e fermare qualsiasi persona che loro vogliono, vedi che non è italiano, italiano non ha importanza, fermare chi stai a fare qua, do lavoro, dove mangi, allora sì. Esasperato Lucio, d'altronde negli ultimi tempi si sono registrati diversi episodi di microcriminalità a Pescara. Ieri è stato malmenato in piazza Salotto da due ragazzini dopo aver reagito agli apprezzamenti nei confronti della sua fidanzata, un 14enne che è finito in ospedale. Sempre ieri un 35enne è stato arrestato per aver rubato profumi e graffiato il commesso di un negozio. E solo di qualche giorno fa la lite in corso Vittorio Emanuele tra due giovani nigeriani. A inizio luglio il doppio accoltellamento in piazza Santa Caterina. Abbiamo chiesto ad alcuni residenti e commercianti se ci sia una vera e propria emergenza sicurezza a Pescara. C'è l'emergenza droga, si spaccia da tutte le parti, nessuno fa mai nulla. Cioè si pensa soltanto a quei poveracci che arrivano con i barconi, si parla solo di quelli. Una volta era un po' più localizzata in determinate zone, diciamo periferiche ma non propriamente periferiche. E invece adesso si è allargata a macchia d'olio. Io sono dell'opinione che a questo punto sia fondamentale anche l'intervento e la presenza dell'esercito come è stato per i Vespri siciliani. Allora, non credo si possa parlare di una vera emergenza di criminalità. In quanto credo che siamo ancora una città dove si possa camminare per strada di sera da soli. Credo che sia una situazione da tenere assolutamente sotto controllo. Però penso che sia l'amministrazione comunale, sia le forze di polizia, sia tutto l'apparato si stiano muovendo bene. Ti senti sicura in questa città? No, io no, per niente. Perché? Perché spesso accadono episodi di criminalità brutti che non si aspettano in una città così piccola. Troppa delinquenza, è arrivata una delinquenza fuori del normale. E non è gente nostra, è tutta gente che è arrivata da fuori. Però ci sono anche italiani? Ci stanno italiani, sì, però la maggior parte sono quelli che vengono da fuori. Grazie. Grazie. Grazie.